Iniziamo da Zagor, come è nato? È nato da un incontro con Bonelli, io lavoravo per la Francia. Passando da Milano avevo intenzione di incominciare a lasciare qualche rapporto con l'Italia perché io come disegnatore sono nato a Genova per mezzo di un editore genovese che voleva incominciare a fare fumetti. Un certo Deleo conosciuto, una persona venuta dal sud, calabrese, però con molte idee e questo editore era in contatto con la Francia. Abbiamo cominciato con lui a fare un personaggio che forse volendo si potrebbe anche inquadrare che è il fantasma verde, è qui di fronte a me. Il primo disegno, io ero un geometra che per divertimento aveva risposto all'inserzione del secolo XIX dove si diceva cercati di disegnatore di romani o fumetti. Ho risposto perché mi piaceva disegnare ma non avevo né preparazione scolastica prettamente per il disegno ma mi piaceva solo disegnare. Ho cominciato, sono risultato vincente a una selezione di questo editore e mi ha subito stampato il primo fumetto che ho fatto nella vita, il fantasma verde. Da qui sono nati poi altri personaggi sempre per questo editore, sempre fatti nei ritagli di tempo che rimanevano al di là della mia attività di geometra. È venuto un momento in cui il fumetto andava bene e dovevo fare una scelta perché occorreva produrre molto e non ce la facevo praticamente a lavorare e disegnare. Ho lasciato andare il mio lavoro, ero scritto all'album anche dei geometri, per darmi totalmente credendo nel fumetto e ci ho azzeccato perché questo editore poi aveva uno scambio di edizioni con la Francia, con l'editore di Lione, un certo Michaud, che stampava allora un personaggio un po' dinamico, Fantax. L'editore italiano, anche perché questo Fantax aveva, come dire, allora i tempi erano di una censura piuttosto rigorosa, aveva un'attività, era molto potente, forte, un po' troppo dinamico e allora è nato Maskar, un personaggio un po' con un nome anche simile che io ho fatto per parecchio tempo, dove mi sono fatto un po' le ossa nel disegno. Venivano poi questi editori, si scambiavano i loro personaggi per edirli in Francia e in Italia. Poi l'editore francese mi ha fatto una buona proposta, allora per diversi anni ho lavorato in esclusia per questo editore. Giusto lavorando per questo editore, passando così per Milano, ho detto che volevo lavorare un po' per ritornare all'Italia e ho incontrato per questo Bonelli. Mi sono presentato con molto materiale francese, ero già abbastanza preparato. Teniamo presente che a quei tempi i disegnatori molto bene preparati nel fumetto ce n'erano pochi. Uno di questi era Gallepinica, ma quello è il grande maestro che aveva già per questo editore Bonelli, in particolare col soggetto del papà dell'attuale editore Sergio Bonelli, era Gianluigi Bonelli, il famoso sceneggiatore del Tex. Il figlio, una persona molto gentile, ho sentito poi dire che aveva visto in me notevoli qualità, buone, e che aveva in mente di fare un personaggio. Insieme abbiamo preparato, io per la parte grafica, lui per la parte letteraria e per la presentazione, lo Zagor. È nato così allora. Subito mi ha fatto incominciare con delle edizioni che si potevano fare, come dire, con una certa velocità, in quanto formati piccoli, formati che un disegnatore riusciva a portare avanti. E così ho incominciato, lasciando un pochino la Francia, non dico in maniera soft, forse non troppo, e ho incominciato a lavorare per, giustamente, Sergio Bonelli, alias come sceneggiatore Guido Nolitta. Era il 1961, quindi insomma Zagor inizia... Ha passato i 40 anni. Perché l'incontro è stato prima, è uscito nel 61, ma io avevo incominciato già, adesso non mi ricordo bene quanto, da quasi un anno di lavoro prima per preparare qualcosa. Quindi Zagor ha più di 40 anni, durante il quarantesimo anniversario sono usciti tanti articoli, uno splendido quarantenne, insomma rimane però un personaggio attuale. Perché secondo lei? Ma perché, devo ringraziare un po' anche l'editore, anche tutta la redazione e quelli che mi hanno dato una mano, perché teniamo presente che in questo momento, uscendo da, ormai da parecchi, da infiniti anni, l'edizione di circa 90 tavole al mese, uno solo disegnatore era impossibile, fosse un santo o con i miracoli riuscire a farlo tutto. Allora c'erano tanti altri buoni disegnatori, buoni collaboratori, e insieme abbiamo prodotto questo personaggio che nel tempo è riuscito a affrontare la crisi che si è poi prospettata, nel momento in cui la televisione ha cominciato a curare il settore ragazzi con telefoni, una volta i bambini se ne andavano a letto dopo Carosello, questo lo sapete tutti. Allora però certi altri bambini guardavano la televisione, guardavano personaggi magari giapponesi che incominciavano ad uscire, eccetera, e queste uscite per televisione hanno soffiato via molto spazio alla stampa. Tutta la stampa in genere per ragazzi ha avuto una notevole crisi. Abbiamo affrontato questa crisi, dicevo e grazie, insomma come dire, alla direzione di Sergio Bonelli, il Nolitta dello Zagor, che è riuscito ad adattare un pochino ai tempi nuovi le sceneggiature e anche, se vogliamo, i disegni di conseguenza. E quindi è per questo che vorrei dare un valore particolare alla riuscita, ma non solo nel mio personaggio, ma anche negli altri personaggi che tutti hanno sentito la crisi dovuta all'avvento della televisione come mezzo che poteva interessare i bambini e anche un po' i ragazzi, diciamo, più adulti, affrontare creando anche personaggi nuovi più adatti ai tempi, alla mentalità che si proponeva. Zagor rimane un eroe o forse un anti-eroe se è stato dalla parte dei Pelle Rossa, vive in una foresta dove tutto è possibile, in un luogo dove tutto è possibile. Come lo definirebbe lei? Cioè un sognatore? Cosa è? Dunque, lo Zagor, secondo me, rimane un eroe, non di congenno, un po' all'antica, diciamo un eroe buono, è un termine un po', però sa difendere sempre i deboli e non dico che sia dalla parte degli indiani perché tante volte c'è anche l'indiano cattivo, non vogliamo dire questo, ma però non si è proposto più come una volta quando il bianco, l'indiano era il cattivo, parliamo di tempi ormai sorpassati perché ormai tutti sanno che siamo tutti uguali, diciamo, nel bene e nel male. Di conseguenza lo considero un eroe buono che conosce molto bene gli indiani, che vive in un ambiente un po' immaginario perché è una foresta che non corrisponde esattamente a dove si vorrebbe quasi disporla, diciamo, nel paesaggio americano. Però la fantasia rispetto, per esempio, al Tex naviga parecchio di più, forse è per quello che si distingue nettamente dal Tex come personaggio. Io mi sceglie il Tex come personaggio nato prima, ma però del tipo dello zago. Si differisce perché è riuscito, mentre il Tex non dico ripetitivo, cioè rimane sempre in un ambiente che rimane cristallizzato nel tempo, diciamo, e anche nello spazio. Zagor, con la fantasia, riesce a portarsi in tutti gli ambienti, si è già portato, nell'ambiente del mistero, nell'ambiente spaziale, nell'ambiente dell'avventura classica, eccetera. Quindi si adatta un pochino a molte forme che si adattano a tutti gli ambienti, sia nel tempo che nello spazio. E con seguità credo che un certo successo e la continuità che ha avuto sia dovuto a questa capacità di adattarsi all'ambiente. D'altronde è una terriera darwiniana che chi si adatta all'ambiente sopravvive. Questo suo rapporto ultra quarantennale con un eroe di cartone come lo vive? Io lo vivo, non me ne accorgo che sono passati tanti anni perché credo di essere, perlomeno dentro, abbastanza giovane e cerco di fare anche il giovane facendo magari degli sporchi ormai non sono più considerato la persona della mia età. Io ho fatto per esempio del windsurf che è difficile trovare una persona della mia età che lo pratichi ancora. Grazie a Padre Terra mi ha dato un pochino di salute anche se ho attraversato anch'io dei momenti un po' particolari ma soprattutto allo spirito che è giovane voglio dire forse è il lavoro che faccio e che faccio volentieri che mi tiene giovane sarà anche il fatto che ho avuto a che fare con un personaggio che ha avuto un certo successo.